In attesa di una definitiva riapertura del presidio ospedaliero di Agropoli annunciata dal governatore Vincenzo De Luca e con la speranza di contrattualizzare presto il personale medico e infermieristico, pubblichiamo una determina del direttore amministrativo Flavio Meola che riassume la spesa per le prestazioni aggiuntive presso il presidio ospedaliero di Agropoli. L'ospedale agropolese infatti registra una carenza di dirigenti medici e per assicurare i livelli essenziali di assistenza, LEA, secondo le normative deliberate nel 2008, propone ai sanitari in esercizio presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania e ad altre strutture dell'ASL Salerno di prestare la propria opera verso il presidio agropolese al di fuori dei propri impegni istituzionali e quindi negli ospedali dove lavorano. Pertanto, dalle rilevazioni e dei riscontri effettuati nel periodo primo trimestre 2020 più con guagli 2019, l'ASL Salerno ha speso per il presidio ospedaliero di Agropoli 125.712 euro, constatando che il personale suddetto ha reso le prestazioni e le ore di attività e che le stesse sono state eseguite nel rispetto dei turni delle autorizzazioni rilasciate dalla direzione sanitaria e debitamente convalidate dalle schede di rilevazione di presenza del personale. La spesa di 125.712 euro è imputata sul budget del presidio ospedaliero di Agropoli, di cui 68.882 per convenzionamento interno e 58.830 per convenzionamento extra presidio ospedaliero. Come già specificato in precedenza, la spesa è relativa alle prestazioni aggiuntive effettuate nel periodo primo trimestre 2020 più con guagli 2019 necessarie a sopperire carenze di organico nell'impossibilità, anche momentanea, di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge ai sensi della vigente normativa come attività libero professionale. Ne deduciamo che tali costi vanno a gravare pesantemente sul bilancio dell'ASL Salerno, pregiudicando la possibilità della struttura ospedaliera agropolese di rimanere aperta. Auspichiamo la repentina contrattualizzazione del personale medico infermieristico, onde evitare ulteriori mortificazioni.